E' tanto, la dobbiamo, salto, su, via, salto, passi di salto, passi a giù, passi a giù, passi a giù, passi a giù, passi a giù. Cercate sempre di controllarvi, bene, belli, forti, sicuri, ma mai esagerare, va bene? Proviamo anche l'altra. Con Antonio viviamo il Vangelo e la Parità, con Antonio viviamo il Vangelo e la Parità. Con Antonio viviamo il Vangelo e la Parità, con Antonio viviamo il Vangelo e la Parità. Bravi, c'è quel punto che è strappo.